sei un dipendente affettivo per liberarti dal narcisista patologico dal borderline e da tutti i manipolatori affettivi e uscire dalla morsa della dipendenza affettiva cosa bisogna fare bisogna far sbocciare la nostra personalità quando siamo dipendenti da qualcuno ci sentiamo demotivati privi di senso e questo accade perché è probabile che non stiamo assecondando la nostra personalità ma la stiamo calpestando la stiamo soffocando probabilmente non abbiamo mai dato spazio alla nostra personalità perché non siamo stati abituati a dargli voce fino al punto che non sappiamo neanche cosa sia perché non sappiamo chi siamo e cosa vogliamo e allora per salvarci dai manipolatori affettivi siano essi narcisisti borderline psicopatici uomini o donne noi dobbiamo coltivare la nostra personalità e realizzarla difendendola poi dai modelli collettivi dominanti infatti ognuno di noi si fa un'immagine di sé che spesso risente troppo degli input esterni come le immagini di successo che vengono imposte dai media anche la famiglia di origine del contesto sociale in cui viviamo possono interferire con la naturale immagine di noi stessi soffocandoci per uniformarci ad una realtà che ci porterà a vivere una vita mediocre perché delineata da ideali che non sono i nostri e allora come ci possiamo salvare per salvarci dobbiamo riscoprire in noi stessi quella parte che ci rende unici e speciali se la esprimiamo l'energia di questa parte ci fa guarire perché questa forza psicologica riguarda l'attitudine a seguire il proprio destino e si manifesta nella nostra vera natura si tratta di diventare più consapevoli di noi stessi e allora possiamo dire che fare coscienza diventare consapevoli costituisce il fine essenziale dello sviluppo umano e possiamo aggiungere che gli uomini vivono per acquisire la massima estensione possibile di coscienza che corrisponde ad una condizione di pienezza che comporta il ritiro di ogni proiezione psicologica e quindi di ogni illusione bene aristotele contrappone il sapere acquisito per ascolto al sapere acquisito per esperienza diretta e l'esperienza richiede compartecipazione affettiva e sentimento ecco perché questo è il sapere proprio degli iniziati e del paziente in analisi che fa coscienza grazie appunto al sentimento e si tratta di una conoscenza trasformativa e improvvisa che ha a che fare con quella che in oriente si chiama l'illuminazione aristotele ad esempio parla di folgorazione la conoscenza psicologica è intuitiva e emozionale o è visionaria quindi è trasformativa ma richiede fede psicologica se è trasformativa questa conoscenza lo è in quanto ha a che fare proprio con le emozioni l'emozione è un ponte tra corpo e anima infatti sono le emozioni che bisogna conoscere a fondo il vero peccato dell'uomo diventa l'inconsapevolezza delle proprie emozioni che corrisponde all'inconscietà che a sua volta equivale a ignorare la propria personalità quindi il sapere psicologico caratterizza l'atteggiamento dell'io che si misura con l'inconscio ovvero con il non conosciuto e lo fa all'insegna del dialogo non all'insegna dell'espropriazione l'io che conosce così come lo pensa jung ad esempio è un mio che ha appreso a dimorare con i demoni e sono queste relazioni a costituire la conoscenza di se stessi e quindi il sapere psicologico che corrisponde allo scoprire la propria vocazione che si celebra nella profonda misura dell'anima ed esprime quindi la nostra più peculiare personalità a questo punto è fondamentale comprendere che l'anima cioè la psiche non smette mai di fiorire nel corso della nostra vita ma dipende da noi nutrirla del modo giusto la nostra personalità costituisce la trama profonda del nostro essere è come un germoglio che prepara i suoi frutti perciò far emergere la nostra personalità significa fare i frutti della pianta che siamo e questo può avvenire in qualsiasi stagione della nostra vita ma bisogna anche che il seme si apra e così possa germogliare ci vuole un'apertura ci vuole eros ovvero la terra fertile e quindi l'apertura all'alterità proprio a questo serve il sentimento a permettere la nostra apertura verso un altro del resto la coscienza si costituisce proprio come un sapere con fatto di immaginazione fatto di sentimenti che diventano una porta aperta sul mondo interno dell'altro di noi stessi un'apertura che ci permette di cogliere la nostra verità psicologica la verità della nostra personalità è unica e ripetibile e allora l'io inizia veramente a sapere chi è cosa vuole non quando si mette al centro della personalità e pretende di dominare di comandare ma inizia a sapere nel momento in cui comincia ad accompagnarsi alle immagini ecco perché parliamo di un sapere con come caratteristico appunto della coscienza si sa insieme le immagini l'io sa insieme alle immagini cioè ai sogni per esempio e alle relazioni con gli altri l'anima parla soprattutto nei sogni se l'anima esprime un significato lo fa per immagini perciò se è vero che la personalità ci caratterizza allora ogni volta che siamo infelici e insoddisfatti è perché stiamo deviando dalla nostra vera natura e dal nostro modo di essere unici nel momento in cui ci allontaniamo siamo travolti dai pregiudizi e dagli schemi collettivi e allora succede che un demone interno ci richiama all'ordine attraverso dei segnali di disagio che vanno accolti e interpretati ed è proprio allora che ci possiamo individuare creativamente a questo punto nessun manipolatore avrà più presa su di noi bene io mi fermo qui e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata e sia consulenze telefoniche per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 specificando il vostro nome cognome e i vostri orari preferiti scrivendo magari un messaggio del tipo come funziona la consulenza poi potete consultare anche il mio canale youtube dove troverete quasi 400 video suddivisi in varie playlist inoltre sono presente anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia il boccalupo